Ciao a tutti ben ritrovati da Tenore Informatico. Ho qui con me un telefono di ultima generazione del marchio Oppo e alcuni mi hanno chiesto come mai la chiavetta USB esterna tramite l'adattatore OTG, ecco qua questo è un adattatore OTG e chiavetta USB, non si riesca a leggere la chiavetta e quindi il suo contenuto. Questo perché va abilitata un'impostazione chiamata OTG e in tanti non lo sanno. Bene, in questo video vi mostro quanto è semplice abilitare la chiavetta e possibilmente leggere la propria chiavetta USB. Vi dovete procurare un dispositivo OTG come questo, è un adattatore, costa pochi euro, 1-2 euro all'incirca e inserite la vostra chiavetta USB. Dopodiché andate a inserire la chiavetta nel dispositivo e notate che non viene rilevato dal telefono Oppo, questo perché l'impostazione è disattivata. Per attivarla basta andare nelle impostazioni, scorriamo nella parte in basso e andiamo su impostazioni supplementari ed ecco qua quello che a noi serve, connessione OTG. Una volta che attivo questa impostazione viene rilevata la chiavetta USB ed ecco qua che la chiavetta dopo qualche secondo viene subito rilevata. OTG, entro all'interno della chiavetta e posso così iniziare a utilizzare la mia chiavetta USB per condividere i file. Bene cari iscritti, anche in questo caso siamo giunti alla fine di questo video, spero che il video vi sia stato utile, like a questo video e vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale di Tenone Informatico. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!